Vi accolgo qui, in questo luogo oscuro, che è il nostro hub rosa Perché abbiamo diversi giocatori che sono prossimi al cambio di ruolo E al riadattarsi a una nuova vita Allora, Ali da DC prende sta scippa Vabbè, però è comunque un vantaggio Poi, Ito torna a fare il DC, credo che non prenderà niente, infatti Però almeno è di ruolo a fare il Defensor Poi abbiamo Romero che torna a fare le S e non prende una scippa Benissimo Proprio nei momenti in cui c'è Nusa che fa le S come lui E poi ci sarebbe Ci sarebbe l'inutile Shvili che diventa da AS, A e D e prende il nulla cosmico Bene, beh, comunque vedete, sempre buone notizie, no? Eh, no, eh, fanno basta? Sì, sto finendo Ok Ma quant'aggetta abbiamo in prestito? Scusate Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici Però Ma, Ferreira Che è diventato 71 Mica, eh? Ma sto Ferreira 71 Ma ne vogliamo parlare? Ma sto Ferreira 71 Agilità, accelerazione, dribbling, effetto Passaggio corto Cioè se può lavorare Vabbè, però basta Su, sennò sto sempre a richiamare gente Che viene Che viene da Da London Allora Abbiamo da fare un pochito Di cose Oggi Quindi me la prendo con molta calma Perché è una giornata Abbastanza impegnativa E Partiamo da Fiorentina Perugia Raga, vi anticipo che il prossimo episodio Il prossimo episodio Nessuno è imprevisto, meno male Ve lo proporrò Senza tagli Quello di mercoledì E Perché Finali di stagione Voglio che sia Bello, ricco Quindi Preparatevi Sarà un mega episodio Senza Evidentemente giusto i tagli Di eventuali E Così Saranno molto brevi Se dovessi tirarne una Mi auguro che non accada Sempre che oggi Non si fallisca tutto E di conseguenza Si Si renda del tutto Superfluo Ciò che sarà Il prossimo episodio Sono preoccupato Sono preoccupato Decisamente si Specialmente da questo inizio di partita Molto flipperone Dai Controvedissimo Gio che ha poche partite Per sperare di essere Confermato Gio Te la devi Fattuta Te la devi Fattuta Gio Gio Te la devi Fattuta Gio Però Una certa Te devi Fermare Se no Perdi Perdi Che braccia Che braccia Con una Sgommata Del genere Fattelo dire Con calma No Niente Continua L'oscura Tradizione Dei giapponesi Non passanti Bravo Pallo Gamma Non ci frega Niente Per usare Una frase Carina Fai correre Gio Allora Noi abbiamo Detto Mannaggia Gio Mannaggia Gio Mannaggia Fermi 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 Una cosa Devi fa L'hai fatta La cosa Giusta L'hai fatta Che fai Titti Dai un po' Ale Ale La cosa L'ha fatta L'ha fatta Comunque Takuma Confermato Decisamente La nostra Scrizione Ha dimostrato Di poterci Lavorare Ad alti livelli E quindi Dicevo A noi ci servirebbero Sei punti Oggi Così Per continuare A sperare Se facciamo Meno di sei punti Diventa un problema Gravissimo Serissimo Enorme Mannaggia Mannaggia Mamma mia Io ho fatto Ho fatto Il danno brutto Con Catasola In marcatura Mi è proprio Sgusciato via Bravo Gio Bravo Gio Ancora Ma Ederson Ma Ci abbiamo Un bucio Oggi Incredibile Incredibile Japan Power Questo Perugia Japan Connection Mamma mia Oh Comunque Gio Ha fatto Una bella Partita Ryu Sakai Ottimo L'assist Non ce Credo Veramente Che siamo 2-0 Con la Fiorentina Vi prego Continuiamo così Smeliniamo Con Cattiveria Ok Dovrei farmi Una formazione Di aggressione Tipo questa Una formazione Di Possesso Bravissimo Per questa fase qua Con una linea Molto bassa Samek Bravissimo Gio Ancora L'uomo in più Di questa partita Non lo voleva Nessuno Non riesco a farti Dribare Manco Manco I birilli Perché esco Corso centrale Perché esco Corso centrale Se è maniato Un gol Incredibile Fermi E una formazione Difensiva Stavo appunto Dicendo Che mi permetta Perché Qualcuno che viene In incontro A raccogliere Il pallone Di grazia Non c'è E io aspetto Che si presenti Bello No Perché In fase di non possesso Bravo Samek Però hanno veramente Tanta tanta fortuna Lorsignori Siamo Super esposti Bene Primo tempo Straordinario Straordinario E Che fa lo Spezia Non si sa Bologna vince L'Arten Ci interessano E Avanti così Comunque Io penso Che sia Senza dubbio La stagione Più Impegnativa Che facevo Dai tempi di Trapani E non puoi però E dai Un po' Dyson Il nostro Dyson Ciclonico Lattici Ciclonico Oh Scamiseria Bravo Frandrup Guardalo Spondalo No Era tutto Era tutto Come nella mia mente Tranne la conclusione Bravissimo Ito Non era mai fallo Mai Niente Niente Sempre così Sempre così Sempre così Sempre così Vabbè Smelly Nation Calma Calmissima Non ti alzare Samek Mannaggia Quella miseria Guardate che roba Cioè non ho scudo Bravissimo Frandrup Usa Io comunque Porca miseria Ci sta un secondo netto Su ogni Cazzarola Di input Ma la pareggiano Ma la pareggiano Io me lo sento Bravo Cambi 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 Allora Es Ed Dunque O al posto di Nusa Anzi al posto di Maeda Noi lo mettiamo un po' più alto Poi il mancio Al posto di Sakai Che ha fatto il suo pure oggi E dietro Non lo so Ma abbasso entrambi i centrocampisti In modo tale Sì la difesa Ripiegamento Ok Copriamoci un po' Per cortesia Bravo Subito decisivo Per la ripartenza Mancio Usa Al posto di Maeda San È partito Ha messo il turbo Ma perché va allungata Sempre l'ultimo L'ultimo controllo Santo cielo Eh Poi dici le gonne Il piccolo Il nostro caisseto Eh però Non capite una fava Di quello che fa Questo ragazzo Eh È buona Sempre intelligente Oh Fallo Fallo Oh ma me dà il vantaggio Lo muovo fischi Eh Su C'è novità No 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 Ma io non ho fretta Sei infortunato Mancio No vabbè Non ci credo Pallo gamma Ti prego no eh Bravissimo Casasola Ottantottesimo Bravissimo Joe Mancio È tua Mancio È tua No Vabbè È finita Sì è finita Dai Fischia Stafine Darci tre punti Arrivederci Grazie Oh è finita Ah no Perché Davvero Davvero Dai Bene I primi tre Sono andati Allora I primi tre Sono andati Partita Tiratissima Tiratissima Vediamo se abbiamo Smosso un po' La classifica Io c'ho C'ho una paura Che voi Non avete Direi Sapevamo Che non sarebbe Stata una passeggiata Ecco Teniamo alto Il morale Il ragazzo Non ho giocato bene Che è la verità Dobbiamo fare Il punteggio Parla chiaro A ciccio Eh Dagli Su Allora Tre No No Ma che Ma cosa Ma che c'entra Tre mesi Ma un'altra Un'altra rogna Ciao L'avevo fa Troppo Troppo poche No Troppo pochi problemi Allora Fermi Che ho spesso Che ha perso Boni Fermi Immobili Tutti Ludinese Sta in Sta lì Sta lì A meno due Potenziale Se noi Vinciamo Corbologna Allora Calma Imprevisto Pre partita Problema fisico Per chi Degli undici Per il due Arca miseria Proprio Ito Allora Niente Dramma totale Andiamo a Bologna Col Papa Ito sta fuori O sta fuori Romero Finalmente Torna Dal Che poi Finalmente Alla fine Gio ha giocato Per una volta Ha giocato bene Ma è Maeda Amico Maeda Ma lo sai Che oggi Eh Fammo gioca a Nusa Davanti Quasi quasi Casa sola Papetti Fontanosa Mi vede l'ansia Solo a nominarli Ma Nascia La miseria Sakai Non si tocca Ogawa È diventato As Asa Più che as Ali Ali È scontento Però Non ti posso Far giocare Non ti posso Far giocare No Non li posso Far giocare Non li posso Far giocare Non è il momento Con l'Inter Uno può dire Se oggi Dovessimo Vinci Con l'Inter Uno può provare A mettere qualcuno Di Ma adesso No Ora no Ora no Non adesso Ma chi se lo Schioppa Su Per oggi a Bologna Partita Importantissima Facciamo senti subito Che siamo presenti No vabbè Ma cosa ci ha fatto Questo Se l'è pure alzata Bene Si comincia Benissimo No Non se l'è alzata Era tipo Un mezzo Controllo Fatto male Per il gioco Presentato In anteprima Di partita Che ovviamente Doveva essere Buggato Va benissimo Lo posso accettare Sakai Sakai Niente Non mi potete Costringere A fare la partita Della vita Con l'Inter Non mi potete Costringere Io non posso Perde oggi Devo fare tre punti Bravo Ti prego Ripetiamole in piedi No Nusa Mannaggia Siamo 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 Vivi Siamo vivi Dai La partita è lunga Sakai Takuma È entrato Takuma Takuma Mi servi Managgia Quel porco Vabbè Siamo Siamo vivi Perugia Che fa la partita Nonostante Lo svantaggio È un fallo Grosso Come una casa Comunque Romero 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 Perché sei tu Romero Era così No Più o meno Niente Ancora Oh Romero È Cristina Davina Però Oh Vai Romero Dentro Dentro Romero Guarda questi Guarda con chi sto a perde Guarda con chi sto a perde Oh Mamma dai Nomo Oh Gliel'ha fatto a pararne una Dai Dentro 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 No Non ci credo Non ci credo Partita A definirla Nonsense A dire poco Allora Intanto abbiamo Genoa che vince Ma che cosa c'entra Genoa che vince Adesso Vabbè Nusa Veramente Totalmente Fuori fuoco E Bisogna cambiare Un po Michelino Ma anche Romero Totalmente Più Più Romero Che Nusa Ma Eda Ma Eda Come esterno E Ryu Sakai Oggi Un pochino Un pochino Spento Almeno il pareggio Poi arrivare all'Inter Con Una flebile speranza Di fare Almeno un punto 5 su 9 Sarebbero Buoni Comunque Michelino Michelino La spondi No Takuma 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 Un po' Un momento Takuma Ma come faccio Io non so di te Nella vita reale Mamma mia Cosa ha fatto Ragazzi Mamma mia Cosa ha fatto Incredibile Incredibile Il piccolo samurai Mamma mia Andiamoci a prendere Andiamoci a prendere Tre punti Cazzarola No 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 Ma dammi Ma dammi Io non ce la faccio Quest'anno Mamma mia Mamma mia Io quest'anno Non ce la faccio Io ho cercato Ossessivamente Di avere un centrale In questa fase Per poter andare Sul giocatore in possesso Non me lo dava Io Non so che fare In questi casi Non so veramente che fa No Comunque C'è un ritardo Nei comandi Che fa Vomitare Quest'anno Adesso Capisco Perché tanti Fanno le carriere Su ps4 Su Era uscita La palla Lì mortacci Tanti fanno Le carriere Sulle console Di vecchia generazione Perché è insostenibile Quest'anno Su next gen Oh Niente Io non riesco Non riesco Io ho una voglia Di dare un cazzotto A qualcosa Voi non ci avete idea Ma mi sto tenendo Perché odio dare Questo tipo di Di esempi Però è Veramente difficile In questo momento Giuro È veramente Una delle volte Più difficili Ve lo posso giurare Sto scapocciando Vorrei Sfasciare Tutto ciò che mi circonda In questo momento Vorrei veramente Sfasciare Tutto ciò che mi circonda Ma non lo farò Ma non lo farò Michelino No C'è l'uomo Non pensavo ci fosse Non ho guardato Il radar Per una volta Casa sola Ancora Ultima chance Per andarlo a pareggiare Niente Ti puntano molto La sostanza Occhio all'avanzata Nel Bologna Io non Io non Io non Io non Io veramente Io voglio Voglio Non lo so Cosa voglio Ma Voglio un gioco Che risponda ai comandi Bello è che la gente Si lamenta di football Poi no Che c'era tutti i difetti Del mondo Ma Questa Questa roba rivoltante Dei comandi Che non Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Ragazzi Ho l'impressione Che quest'anno Siamo belli che andati Ho l'impressione Che quest'anno Siamo belli che andati No ma Non riesco Non riesco a fare Quello che Che vorrei Non ci riesco Sono profondamente amareggiato In questa fase Sono profondamente amareggiato Sono profondamente amareggiato In questa fase Eh Ah non mi ricordo Grazie Non riesco Non riesco Non riesco Ragazzi Non si riesce Dunque Il Genoa esce Dalla zona calda Il Genoa esce Dalla zona calda Il Genoa con cui noi avremo A che fare Però Il Genoa con cui noi avremo A che fare Allora Adesso Senza perdersi Tanto Io più di questo Un po' So fa Quindi Zanoli Poi ci si pensi Partita con l'Inter Sto gioco è pazzo Per cui potrebbe accadere Letteralmente di tutto Intanto Angelo D'Angelo Cambia ruolo E prende un punto Wow Wow Sono abbagliato La quotanta crescita Marquez Invece Cambia ruolo E prende Tre punti Già qui Siamo messi Un pochino Meglio Per il resto Non ci sono C'è sta Fiore Che potrebbe Però Non C'è avuto Un'involuzione Senza senso Fiore Perché Super promettente Te sei spento Dopo un quarto D'ora che è arrivato Fiore Lo so Perché Questa Orribile Disgustosa Involuzione Fiore Perché Perché sei un esterno Oh Fiore Diventa Fa come te pare Fa esterno Fa quello che vuoi Cioè Tanto promettente Tanto è Poi Boom Tra capo e collo La botta Allora Adesso A Milano Senza niente Da perdere Se non La dignità Per quello L'abbiamo già persa Da un bel po' Narto Ma fisico Ito è tornato Per il 10 E il 10 Chi è il 10 Vediamo un po' Asano Vabbè Porca miseria Però Però scusate No Abbiamo l'attacco A 3 A T A T A T Sakai Oh no Asano Mi dispiace Mi mette a far Puntiglioso No A parte che Michele non ha strusciato La palla E il mancio Dentro mancio Dentro mancio Ito è tornato Quel che è giusto È giusto Sakai purtroppo Non sarà della partita Dentro Gawa Musa Sta bene dov'è Esattamente come Romero Ma purtroppo Ne posso Reva solamente uno Alla fine Civili è quello Che sta ritagliato Un ruolo Non lo so Ma nella brosa Uno ha cambiato Qualcuno ha cambiato Posizione No Vabbè Ragazzi È il momento Della verità Mai come adesso È il momento Della verità Speriamo bene Ma la vedo Durissima Ci vuole un miracolo Ci vuole un miracolo E noi siamo abituati A farne Ma Questo mi sembra Tutto un miracolo Mi sembra un sogno I sogni raramente Si trasformano in desideri Di felicità Tacuma Regalami un sogno Ma perché Non l'hai fatto Power Eh Ergodda Chic No 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 Ergodda Chic Mi rifiuto Ergodda Chic Mi rifiuto Catecolicamente Gio ti prego Pia testa Conferma Non è possibile Mancio Per Maeda Romero Sì Non te fa male Surtando Te prego Non te fa male Surtando Se perdo Se perdo Ho perso Tutto Fermi 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 Adesso Con molta calma Io 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 mi sentirei Io mi sento un po' Un verme Ma c'è una parte di me Che vorrebbe smelinare Per 90 minuti Ma non lo farò Ma non lo farò Giuro che non lo farò Ma una parte di me Vorrebbe Tanto 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 Lo giuro Vorrebbe Tanto Io Lo posso dire Lo faccio Allora Se Se E sottolineo Se Ci salviamo Io mi faccio La maglietta del perugia Con scritto Asano Lo faccio Lo faccio Ergodda Chic No Ergodda Chic No No Non è possibile Comunque Mamma mia Che cazzarola De citofono È un citofono Casasola Lo ferma Lo liscia Grande Fontana Rosa Che approfitta Della mancanza Del fallo di mano No Ero partito In contropiede Però Per Diana Io ero partito In contropiede Allora Genoa e Spezia Ci interessa E non sappiamo Bene nulla Di nessuna Delle due Ottimo Allora Mancio Si è fatto male Ma non si tocca Mancio Resisti Mancio Stringi i denti E fai quello Che devi fare Takuma Nello spazio Sei fuori gioco Avaniland Ne blocchi una Per pietà Per pietà Per pietà Ci va bene anche un punto Un punto a noi Niente Non c'è speranza Ragazzi Quest'anno Non c'è Non c'è Speranza Mancio Vabbè Ti sei fatto male Ciao Quest'anno Non c'è speranza Un'uso Un'uso Prima punta Il mostro Della disperazione Maeda Buona Mancio L'ultimo atto Eroico No vabbè Non c'è Non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo Ti prego Takuma Takuma Me la faccio Se ci salviamo Me la faccio Se ci salviamo Me la faccio La maglietta Se ci salviamo Me la faccio Me la faccio Con la 10 La 10 Di asano Voglio Mi faccio La 10 Di asano Mi faccio La 10 Di asano Gli do la 10 E mi faccio La 10 Ah si si Takuma Ma se tu Adesso tipo Facesti una tripla Gio No Gio Mannaggia No No Avevamo Quanti se ne siamo Magnati oggi Quanti Bravo Ito A chi la do Al portiere Con calma No Che è so buco E il pallone Finisce in rete Pazzesco Hanno trovato Il vantaggio A poco dal novantesimo Gara che non finisce Di stupirci Non ci credo Pierre Hanno tirato fuori dal cilindro Un gol Che potrebbe dar loro La vittoria Quando nessuno Ormai ci credeva più Io non ce la faccio più C'è stato Si torna a giocare Con i nero azzurri Dell'Inter Che sono adesso avanti Hanno il pallone Ma vai a fare Ma ma No vabbè Non ci posso credere 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 Non so Non so cosa dire È disperata La situazione adesso È disperata No Una partita in più Abbiamo È finita ragazzi È finita Vabbè Poi ci pensiamo Adesso Sepulveda Carillo Poi ci si pensa Robè Torneremo Robè Torneremo Pessimo Eric John Io non ho il coraggio Di andare a vedere La classifica Ve lo giuro Non ho il coraggio Di andare a vedere Oppure questo Da vedere Leone Avevamo fatto L'impresa Con l'Inter Avevamo fatto Veramente l'impresa Io non ci posso credere Cioè Mi ha crollato Mi ha crollato Veramente Il mondo addosso A sto giro Sergio Franco Cinque giorni Fermi tutti Regà Io non ce la faccio Io adesso devo dire Devo dire una cosa Con estrema Con estrema Trasparenza Allora è Martedì 3 Sono le 20 e 29 Io non ce la posso fare Aspetta domenica Per registrare La fine Non ce la faccio Regà Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Cioè no Anzi Neanche domenica Lunedì Però io non ce la faccio Aspettate Non ce la faccio Non ce la faccio Bene Alla salute Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Ce la faccio E mi verrebbe a dire Scelgo io il peggiore Della settimana E Un non facciamo peggiori Sarebbe Non lo so Non lo so Non lo so Vorrei averli tutti Per le ultime tre Vorrei averli tutti Posso dire che vorrei averli tutti Ragazzi per una volta Visto che la sfiga Si è già accaduta abbastanza Posso dire che li voglio avere tutti Non lo so 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 Farò adesso A riprova di quanto ho detto Appena finisco un sondaggio In cui Che cosa è? 5 Asterisco Dxt Fraction Separa Tau Separator Separator Vabbè Farò Farò una storia adesso Su Instagram Per chiedervi Se posso andare Senza peggiore della settimana Questa settimana Così Ma registro domani Quest'altro Io Già vorrei che fosse prima Adesso Per poter registrare ora Avrei voglia di vedere Come va a finire Ho l'ansia Ho veramente l'ansia Posso dire che ho l'ansia Non mi capita Non mi capita mai Di avere l'ansia Per queste cose Cioè L'ansia seria Cioè Non per niente Ma Ho il terrore Che ci esonerino E di conseguenza Che si possa Perdere molto Tutto quello Che abbiamo costruito Sarebbe veramente Un peccato Sarebbe veramente Un peccato Sarebbe veramente Un peccato Però Come ben sapete Io sono uno di quelli Che se prende Le cose come vengono E per quello Mi viene l'ansia Perché se fosse uno Di quelli Che se le sette Aveva partite Non c'avrei l'ansia Direi vabbè Registo fin quando Non va Però C'ho l'ansia C'ho l'ansia Ragazzi C'ho l'ansia C'ho l'ansia Devo dire che c'ho l'ansia Però Però Allora Parliamoci chiaro Ragazzi Se riusciamo a fare Sei punti Si va Cioè Si resta Però tocca A fare sei punti Tocca a vincere Entrambi gli sconti diretti E pregare Che ci siano In altri campi Risultati favorevoli Non È una cosa È complicato Ragazzi È complicato Niente Sto fiore Se lo siamo bruciato È andato proprio Grave Grave proprio Un po' di singhiozzo Benissimo E Vabbè Intanto l'abbiamo promosso Così non ci si pensa più Toledo Toledo Olè Ah Alejandro Pardo Non l'avevamo neanche messo Ad allenarsi Per il momento Direbbe in velocità Tiro Ma tu non sei un attaccante Non sai tirare in porta Passaggio corto 46 Non sei un esterno Pardo L'ennesimo Inutile Insulso esterno Della mia vita No neanche AS Vabbè Tanto Che te Che te lo dico a fare Pardo Che te lo dico a fare E Ragazzi So che sto tergiversando Perché non voglio spegnere No Di quelle volte No Non lasciatemi solo In questo momento No Vorrei Vorrei troppo essere live In questo momento Per poter parlare con voi E Vorrei Vorrei che fosse prima Perché io sarei anche Il tipo di Ok Mi metto a fare Più tardi La faccia adesso Però dove avete tre episodi Ho preso questo Quindi non posso farlo Il dramma di avere tantissimi Tantissimi Cioè un palinsesto Molto ricco È proprio quello Che io purtroppo Mi devo portare avanti Con largo anticipo Su tante cose Durante la settimana Stasettimana C'ho anche parecchi Impicci privati Tipo il dentista Quindi mi sono stato costretto A fare le cose Anzi 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 Tempo E il dramma però È quello Che poi Anticipo troppo Che si fa Non lo so Comunque Dicevo Situazione drammatica Prima volta Perugia Spezia Ipotizia Scenario numero 1 Perugia Spezia Noi vinciamo Superiamo lo Spezia E andiamo a 30 Appare i punti Con il Genoa Che va a Udine Che è lì Se il Genoa Pareggia O non vince Si apre uno spiraglio Perché Poi Ci sarà Genoa Monza Si apre un altro spiraglio E noi andiamo a Milano Intanto con lo Spezia Gioca col Parma Successivamente Lo Spezia Ehm Dove stanno tutti? Spezia Bologna Che potremmo aver già superato Ma potrebbe risuperarci E Spezia Bologna Potrebbe uscirci un pareggio Mentre abbiamo Perugia Genoa L'Udinese In tutto ciò Gioca con il Monza Ehm Con Con Il Torino Vabbè Udinese Udinese Riacchiappa L'Udinese Si dovrebbe riacchiappare Se perdesse Con il Genoa Noi vincessimo Avremmo Udinese Genoa 33 A 2 Dal termine Allora potremmo fare La corsa su 2 Anziché una Che per certi versi Sarebbe pure meglio Ehm Amma mia Che disastro Che disagio E niente Io adesso faccio la storia In base al sondaggio Deciderò se registrare Prima o dopo Ehm Ve lo faccio subito Appena finisco Ehm Niente Ragazzi Ci vediamo Comunque vada Ci vediamo mercoledì Con il prossimo episodio È l'episodio Più atteso Da me Da non so quanti Penso da almeno 2-3 anni Peggio di una finale Di Champions Cioè Ho più Ho più Preoccupazione Che quando ci siamo giocati Di Champions Vedremo cosa accadrà Adesso Vado su Instagram E Vi chiedo Una voce Alla prossima Alla prossima